1 new calamarata cozze e carciofi partiamo subito facendo aprire le nostre cozze in padella e una volta pronte prima ce le andiamo a separare dal guscio e poi ci andiamo a filtrare tutta la loro acqua dopodichè nella stessa padella ci andiamo a rosolare i carciofi compriamo con l'acqua delle cozze e facciamo cuocere il tutto per 20 minuti poi trasferiamo il tutto nel bicchiere del frullatore ci andiamo a fare una bella crema e infine ci andiamo a calare questa bella calamarata e una volta pronte via direttamente in padella arrizzuiamo un po' amalgamando il tutto e a fuoco spento cozze e prudisino a motopompa e 1 new che vi devo dire più questi sapori oltre che ricordarmi casa mi ricorda di dirvi di ascoltare la yakata replicare questa ricetta perché è la bomba